Ehi ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con Poa e sono le 2-3 di notte, 2-3 del mattino, sono le 2-3 di notte raga e siamo con Poa Perché oggi e Poa vogliamo verificare una cosa e bisogna anche parlare piano perché è molto tardi le 2-20 di notte raga Cioè non è che siamo molto normali, Poa fa sto video, sto video allungherà la serata perché in questo video, in questo video Poa sai cosa devo fare? Andremo intanto a verificare se mi lagga o non mi lagga e poi dobbiamo andare a fare una vittoria per vedere se i nemici sono forti o sono scarsi a quest'ora E guardiamo anche chi troviamo E allora la sfida di oggi è giocare per un'intera notte a Fortnite Se non mi lagga ovviamente Un'intera notte a Fortnite se ci si fa perché il mio telefono è anche scarico Il titolo di questo video in pratica si chiama Alle 2 di notte giochiamo a Fortnite E vinciamo Spero che si vinci Non mi intera notte Allora Poa Allora Poa Dobbiamo giocare Io vado in questa casa Poa Cioè io non pensavo che alle 2 di notte te mi chiamassi a fare questo video Sì infatti dobbiamo fare bene perché se te che mi hai chiamato te lo ricordiamoci Infatti mi hai chiamato te lo ricordiamoci Sì è vero mi hai chiamato te Non ti vedete mi schiava la zona mi schiava già Ok prima che è fatta Ritorno alla mia casetta La bella No 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 Ok guarda Io ho una kill Poa Ho una kill Mi lago un pochino Cioè non giocheremo un'intera notte raga Però giocheremo una partita per vedere se i nemici a quest'ora sono scarsi oppure no Però facciamo solo una partita Allora io Poa l'equipaggiamento sono veramente apposta Per ora non me lago Facciamoci questo shield Cioè giocare alle 2 di notte e mezzo veramente raga è illegale giocare a quest'ora Non so raga da dove mi abbia sparato quello lì Non so raga da dove mi abbia sparato quello lì Allora voi sapete da dove mi abbia sparato Allora mi sta allargati brutto però noi allargiamo non ci pensiamo Poi come se mi sa qui il quadro di amici se mi sa che era vero solo solo una killa Allora ragazzi, per ora siamo insieme. Per ora raga, per ora raga siamo in zona, molta paura, per ora siamo in zona, quindi, io direi che è andata a pusha perché là c'è gente paura. Quindi direi che è andata a pusha perché là c'è gente paura, quindi direi che è andata a pusha. Allora. 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 Ora facciamo seconda e ultima partita. Seconda e ultima partita raga per vedere se riusciremo a fare almeno una top bellissima e una vittoria. Ora se ci riusciamo a fare una vittoria. Se non ci si fa l'importante è che abbiamo già fatto due partite. Questa è l'ultimissima partita. 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 Quindi questo video di questo video è giocchiamo di notte a Fortnite. E se si vince. E se si perde si dice giocchiamo di notte a Fortnite. che maschera, un po' quasi pronto, ora vediamo dove parte la mappa e vediamo in che posto si va, ora sono le 2.22 di notte raga, e arriveranno tanti video nella settimana raga perché oggi è solo mercoledì, quindi raga domani mercoledì insomma, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi domani mattina, ah no, non c'è ancora, non c'era l'ora, se va a campi fregherai, campi fregherai, domattina raga uscirà un altro video, un altro video che si chiama, cioè il prossimo video che è domani, domani raga andiamo in bici, andiamo in bici, non so ancora se è confermato quel video, però io penso di sì, ok, raga siamo scesi, siamo scesi, siamo scesi, questa è l'ultima partita, questa, questa può, è l'ultima partita, poi questo video l'abbiamo fatto, perché è per scara assieme, comunque, io ve l'ho detto il video, giochiamo di notte a Fortnite, ma o si perde o si vincere, ora si guarda, allora, 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 vi faccio questo shield, a me raga mi mancano le vecchie scesi, non mi mancano, guardo le vecchi, ok, ora lo spieizze, non mi mancano le vecchie scesi, no mi mancano le vecchie scesi, ora, anche se vedo i corse, si healcale, myôigino, non si va dicono, raga abbiamo scoperto che di notte si trovano i portazzi anche sto qui è un bot però massacrato vabbè 86 esi non male questo video raga lo concludiamo così siamo morti due partite di fila raga siamo morti due partite di fila e che devo dire ditemi nei commenti che sono scarsi vabbè buonanotte ciao a tutti raga domani